Intravedo degli strani macchinari Ciao Qual è l'idea che c'è dietro con questo robot? Noi siamo due studenti di ingegneria a Padova Non l'avrei mai detto Infatti questo robot è un po' la fusione di tutto quello che facciamo C'è sia la parte robotica che elettronica che la parte di stampa 3D Noi produciamo questo tipo di ruote che sono delle ruote omni direzionali Praticamente permettono lo spostamento in tutte le direzioni In un'ipotetica automobile montando questo tipo di ruote Si può effettuare un parcheggio ad S come un parcheggio ad L Io non avrei bisogno La cosa che mi piace molto è che è prodotto in casa però con un figlio industriale Questa è la vostra stampante Si questa è la vostra stampante Quindi il fatto che abbiate pensato voi il progetto e l'abbiate fatto voi proprio Con le vostre manie è una cosa anche molto bella Ciao! 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 Ciao!